questi? così si inizia? aspetta non tagliamo vai riparti ciao e bentornati sul canale! allora questi un po li ho tastati ma non ero sicura quindi li ho presi allora ci sono cinque batman e tre superman andiamo a vedere c'è sì di cui due batman sono speciali e un superman è speciale gli altri c'è vedi? 3, 2, si belli sai che non so che cosa potrebbe essere abbiamo una testa sono i DC super hero top per 3d allora tu apri il tuo io apri il tuo mio se c'è Chris non c'è perché lo abbiamo visto addirittura? no 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 è una testa ah fregato va bene andiamo a vedere prima flash allora devo dire infatti quando l'ho tastata avevo detto o è flash o è batman sono belli però sono fatti bene flash non è uno dei miei personaggi preferiti c'è il foro da mettere per mettere sopra la matita però sono fatti veramente veramente bene complimenti belli e tu cos'hai trovato? Joker! oh il Joker carino carino quindi Joker e Flash sono personaggi DC io avrei preferito un batman però abbiamo trovato cattivo e buono sì è vero è vero per fortuna per fortuna uh mamma mia se trovavamo due buoni o due cattivi eh finiva male la situazione certo va bene e così possiamo lottare lottiamo lui è super veloce lui è super cattivo invece perfetto abbiamo lottato sarebbe mio però questa recensione è molto veloce perché è certo che quello d'oro sarebbe stato molto carino allora intanto io vi ricordo questa volta lentamente di iscrivervi al canale mettere un like commentare condividere e soprattutto schiacciare la campanella per essere giornati su tutti i video speriamo la prossima volta di trovare qualche batman o almeno uno speciale o o o o o o batman perché super non mi interessa o o e quindi come sempre o o wonder woman o wonder woman assolutamente e noi come sempre vi sentiamo insieme al prossimo video ciao ciao Ciao!